benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video come ci sono stati in descrizione oggi facciamo un blog prima di iniziare seguitemi su instagram giusto il facebook luca giusto abbiamo 5 minuti di vista oggi come vedete oggi sono come vedete un po più un po più basso così perché mi sono dimenticato il tre piedi a casa mia nella mia casa e penso che farei il video qui questo video sarà in collaborazione con un altro mio amico in quello che fa canale che si chiama jammygamer vi lascerò sotto in descrizione e probabilmente anche voglio fare il video oggi non so perché come vedete ora siamo in un'altra colazione di fatti siamo verso il castello ed è da qua che inizia il blog sono in compagnia che anche lui probabilmente a fare contemporanea lo stesso video quindi se volete passate prima sul mio o prima sul suo scegliete voi però lì c'è più iscritti quindi conviene passate prima ma ok e niente ora facciamo un blog sul super il castello c'è pieno di turisti tipo oggi troppi questo tempo qua si vede male nella fotocamera no questo non è più come l'altro anno e l'altro blog e probabilmente per la città ecco si prepara la tempesta quindi in compagnia della tempesta ecco il titolo del blog in compagnia della tempesta si lo sto facendo verso il castello adesso ma spero che non si senta l'audio del mio amico che fa anche le video 50 likes soltanto per sto panorama non lui lui zero dai scherzo e anche per il castello sognerete in questo bellissimo viaggio tra gorizia e gorizia road to gorizia e poi ci becchiamo direttamente quando siamo alla dei spavoli come vedete questa hashtag a nuvoliscendo tanto guardate il bel panorama che c'è intorno e seguite pure questo tizio qua che non so chi sia comunque seguitelo dai scherzo so chi è e anche lui sta facendo ora il video è stato di dirvi importantissimo seguitemi anche su instagram just like facebook luca giusto arriviamo a 5 like come sempre inoltre nelle vie più sconosciute di gorizia non ha neanche nome sta via è molto paurosa il nome di questa via è ora piove sto cazzo e qui è una leggenda una leggenda molto molto paurosa parlava di sto cazzo tanto vedete intorno il cielo che ci accompagna in sto bellissimo viaggio qua siamo in un luogo sconosciuto detto gorizia con neanche 30.000 iscritti neanche 30.000 abitanti una macchina questa ora ci addentriamo sempre di più ma sempre di più nelle strade sconosciute di una città sconosciuta due ragazzi gli ultimi due sopravvissuti uno di nome luca e uno di nome giammarco che ci addentriamo in una via dove tutte le ragazze sono in vendita e tutte distrutte la nostra avventura pian piano sta continuando e ora ci addentreremo all'interno della despar sempre questo tempaccio che è meglio correre mmm buona usciti dalla despar come vedete qua dietro e io ho preso la coca cola e il kinder tanto come vedete questo tipo iniziano a diluviare quindi non sappiamo cosa fare come vedete non si vede qua sopra ci sono dei nuvoloni che il mio amico è tanto prima ha fatto una challenge passate sul suo canale per vederla ma c'è la sua descrizione no 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 mi ritirano il foglio rosa è una challenge la challenge si chiama farsi ritirare la patente oh madonna ma è bello che piove forte 30 secondi poi smette si fatti siamo venuti qua perchè non sappiamo cosa fare e quindi ora facciamo un giro che bello sorridi il video il video il vlog finisce qua per il fatto che non sappiamo cosa fare siamo completamente bagnati per radici come vedete la situazione buono non penso che ci vedo tanto come ho detto prima passate sul suo canale ragazzi credo che luca tv show vi lascerà in descrizione il mio canale ovviamente non vi lascio la descrizione sul canale perchè basta che andate sotto il video quindi sul canale se neanche dei miei lasciate il tasto iscriviti la campanellina e dovete lasciare un bellissimo like e niente come ho detto prima arriviamo a 5 like se seguitemi su Instagram, Facebook e tutto visto che c'è già mi gamer qua non deve arrivare a 5 like ma dovete arrivare a minimo 10 like non so se sia possibile ma spero di sì e niente arrivederci a tutti al prossimo video